Ciao Draghetti! È un po' che non ci si vede, immagino che il basket li manchi molto. È per questo che abbiamo trovato un modo per starvi vicini in questo periodo di attività. Useremo il nostro canale YouTube per postare dei video dove i vostri istruttori vi faranno vedere gli esercizi che potete fare da casa. Mi raccomando seguiteli con attenzione, continuate a allenarvi e ci vediamo presto in palestra.